Amici di Unibet, eccoci qua. Proviamo a fare il punto della situazione a mercato Inter oggi. Allora tre portieri a posto, Andanovic, è stato preso Padelli dal Torino, rinnovato per un anno Berni che sarà il terzo portiere. C'è l'arrivo di Skriniar dalla Sampdoria giovane e secondo me farà coppia con Miranda come difensori centrali. Secondo me l'Inter si sta muovendo per cercare di avere Darmian del Manchester United. In mezzo ci sarà l'arrivo di Borja Valero che dalla Fiorentina probabilmente e quasi sicuramente verrà all'Inter e settimana secondo me si chiuderà. E poi ci saranno altri movimenti. La conferma di Perisic a sinistra perché è un giocatore importante e l'Inter è stata brava perché doveva rientrare con un'eccessione sui 30 milioni di euro. Quindi Caprari e la Sampdoria, altri tre o quattro giocatori riuscite a realizzare quella cifra lì, quindi Perisic adesso a disposizione dell'Inter, anche se sono convinto che se arrivasse un'offerta importante potrebbe partire. Quindi mi aspetto ancora due o tre colpi importanti da parte dell'Inter, però è sulla buona strada. Quindi tifosi interisti fiducia e buon inizio preparazione perché mancano a pochi giorni l'Inter si radunerà e partirà per cercare di fare un campionato importante. Ciao amici di UNIVERS sono sempre Evaristo, scusate se insisto.